Quanto costa comprare una casa di lusso in Italia? Proviamo a dare una risposta in questo video. Prima di iniziare ti ricordo di sostenere il nostro progetto di divulgazione nel mercato immobiliare, ti basta iscriverti e attivare la campanella. Oggi, comprare una casa di lusso in Italia non vuol dire per forza dover spendere milioni e milioni di euro. Ci sono case accatastate come lusso, e vedremo poi cosa vuol dire, che puoi comprare anche magari a 400-450 mila euro. Perché alcune volte le case di lusso costano così poco relativamente a quello che poi potrebbero effettivamente valere? È perché c'è un carico fiscale molto più elevato rispetto all'acquisto di un immobile normale, di un normale appartamento o di una normale villetta. Infatti, se il resto dei costi di acquisto di un immobile rimangono perlomeno invariati, meno in percentuale, quindi agenzia, notaio e tutto il resto, la parte fiscale, quando si parla di acquistare un immobile di lusso, è sensibilmente maggiore. Partendo dal fatto che su un immobile di prestigio non puoi accedere alle agevolazioni prima casa. Quindi, anche se stai acquistando un immobile di lusso per viverci, per farne la tua residenza principale, e non possiedi altri immobili, non puoi avere le agevolazioni prima casa. L'imposto di registro che nell'acquisto prima casa sarebbe il 2% del valore catastale rivalutato, nell'acquisto di un immobile di lusso diventa il 9% del valore catastale rivalutato, e anche il valore catastale viene aumentato perché la rendita è più alta e perché il coefficiente da moltiplicare per la rendita è più elevato. Le imposte ipotecarie catastali nell'acquisto prima casa invece sono pari a 50 euro ciascuna. Nell'acquisto di un immobile di lusso questa agevolazione non si può avere, e anche in questo caso si parla di 200 euro ciascuna, ovvero 4 volte quello che sarebbe nell'acquisto prima casa. Ma la vera batosta è quando devi acquistare un immobile di lusso da una ditta che ha costruito o ristrutturato negli ultimi 5 anni. In questo caso l'atto è soggetto a IVA e non all'imposto di registro. L'IVA in questo caso è veramente alta perché si parla del 22% da calcolare sul prezzo di acquisto. Quindi se stai acquistando una casa da 500 mila euro avrai una IVA da pagare all'acquisto pari a 110 mila euro. Le sorprese però non finiscono qua perché anche per quanto riguarda l'IMU, che sulle abitazioni destinate a residenza principale non è dovuto, nel caso di immobili di lusso invece va pagato ogni anno. Ti faccio un esempio, in questo momento sto vendendo una vila di lusso che in base al valore catastale si aggira intorno ai 500 mila euro e deve pagare ogni anno 4 mila euro di IMU. Non sono somme elevatissime ma si parla comunque di più di 300 euro al mese da accantonare per pagare l'IMU. Ora con questo video non voglio scoraggiare gli acquisti delle case signorili, sicuramente ci sono delle ottime opportunità sul mercato anche per appunto tutti questi fattori che abbiamo analizzato e quindi in questo momento potrebbe essere conveniente acquistare un immobile di lusso. E ci sono anche delle strategie per evitare l'imposizione fiscale maggiore che si ha su questi immobili, ma ne parleremo magari in un prossimo video. Intanto se questo video ti è piaciuto lascia un like, lascia un mi piace, se hai qualche domanda puoi lasciarmi un commento oppure contattarmi, trovi tutti i recapiti in descrizione. Ciao e al prossimo video! Ciao!